Logosfera e style and fashion, ha il piacere di incontrare Giuseppe Mambrini, presidente di Gentri Portofino. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao, grazie dell'opportunità che ci date per spiegare i capi di questa stagione. Noi rappresentiamo il marchio Gentri Portofino, un marchio storico del 1974, un marchio disegnato dai più grandi stilisti italiani e un marchio di nicchia, orgogliosamente prodotto interamente in Italia. Tutto il ciclo produttivo è al nostro interno, quindi un'azienda verticalizzata, un'azienda che ha tutti i macchinari per a partire dal frio e arrivare al prodotto finito. Quindi siamo molto orgogliosi in un momento in cui tutti si chiedono queste cose, ma usciamo, restiamo, andiamo, cosa facciamo? Noi siamo rimasti forse indietro e abbiamo tutta la nostra produzione all'interno dell'azienda. Questo inverno, questa stagione, presentiamo come sempre delle piccole innovazioni, ma importanti. Per esempio abbiamo il nostro Centocolori, che è un prodotto, un cashmere a un filo, in 228, che noi presentiamo in 100 colori, che riusciamo a consegnare in 4 giorni, con il nostro dettaglio della punta fatto in questo modo, che è un dettaglio complicato da fare, di cui siamo molto orgogliosi, ne abbiamo anche brevettato, e questi altri dettagli, non so, del tassello di rinforzo nella sottomanica, tutti questi dettagli, che rendono un capo classico, però speciale. Poi, come novità, abbiamo questo giacone, questo giacone, che è un giacone in quello strato, in cui è tutto foderato in nylon, poi dopo c'è uno strato di jersey, di cotone, poi dopo c'è tutta la maglia esterna, per un uso proprio da giuboteria esterna, con la maglia. Questo qua è un capo molto bene, un capo tecnico, che è realizzato in 100% lana, extra-gritone. Poi un altro capo, un altro capo icona, è questa riga, riga Tillin, è sempre un cashmere, un cashmere molto leggero, perché ha una finizza 14, ha tutti questi dettagli, di cui si parla sudore in seta, messi a mano, molto importanti, perché si parla sempre di artigianalità del prodotto, e queste cose sono artigianali del prodotto, cioè fatte a mano, la mano dai sarti, abbiamo tutti questi dettagli anche qua, di tasselli in tazio, tipici di Gentri Portofino, la mano è una mano bellissima, perché è una mano veramente spettacolare, e questo qua è un nostro classico, la riga, due battute per colore, che produciamo da sempre. E poi, per fare un altro panoramico, una decarolata veloce, abbiamo questo capo, che è un capo integrale, cioè integrale che è senza cuciture, dove andiamo a rimontare solo il collo, anche qua di un cashmere leggerissimo, cioè una mano che è quasi impalpabile, e è una mano che si può richiudere, questo capo si può richiudere dentro, sul sacchettino di nylon, e diventa una sorta di giveaway, dove tu chiudi il capo dentro, lo metti in borsetta e vai. Grazie! Prego, anche a voi, grazie! Grazie! Grazie!